Allora, grazie a chi è qua, mi metto la sveglietta sul telefonino, 19 minuti, così sapete di che morte dovete morire. Grazie a già del folle, però la storia la cambiano i folli, non la cambiano quelli che ragionano in maniera lineare. Portare mille persone il sabato pomeriggio a parlare di euro e di moneta a Milano è una cosa da folli, quindi il primo applauso è per voi e per quelli che ci stanno sentendo da casa, perché non siete normali. Però non ci piace essere normali. Un ringraziamento anche alla ragazza che ci dà una mano con la lingua dei segni per permettere anche a chi segue via web e via streaming questa iniziativa. E da qua parto. Oggi parte la battaglia per le diversità. Lascio i temi economici al professore. Ormai solo i cretini o quelli in mala fede possono sostenere che l'euro vada bene così com'è. Non so se quelli che avete visto prima siano cretini o in mala fede. Però lascio a voi la scelta. Il taxista, il benzinaio, l'edicolante, la partita IVA, il cassi integrato, l'esodato. Chiunque si è reso conto che rispetto a 12 anni fa le promesse fatte non sono state mantenute e abbiamo perso diritti, abbiamo perso stipendio, abbiamo perso pensione, abbiamo perso aziende. Però dirlo è un atto rivoluzionario. Dire quello che pare ovvio, diceva Orwell, che nel momento dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Io oggi prima di venire qua ho guardato i telegiornali e devo dire che mi sono vergognato da giornalista della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani. Nel senso che Goebbels avrebbe avuto da imparare da questo Ministero della Propaganda che ci vende quello che è un governo sola, un governo bufala, un governo carnevalesco come qualcosa... Ci sono le donne, ha trovato delle donne e fra le donne ce n'è una incinta. State tranquilli, nel governo di Renzi c'è una donna incinta, quindi i problemi dell'Italia sono risolti. Fa niente se poi la donna incinta è amica dell'amica 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 e non è la donna incinta dei quartieri popolari di Milano, di Torino, di Roma o di Padova, ma è la donna incinta dei quartieri chic che non ha i problemi delle donne incinte normali, diciamocela tutta. E non penso sappia quanto costa il latte in polvere e non penso sappia quanto costano i pannolini. Però per dire che stanno creando un mostro, dal mio punto di vista, io sono andato ad ascoltarlo, sono peggio di Monti e di Letta, perché almeno quelli erano antipatici. Lo vedevi? Ne hanno scelto, secondo me hanno fatto un casting, io me li vedo di notte a Berlino, a Bruxelles o a Washington. Chi troviamo per fotterli stavolta? Abbiamo provato con quello della Bocconi, non è durato tanto. Abbiamo provato con un altro, brava persona, modesto, parla bene, non è durato tanto. Ci vuole qualcuno che sembri nuovo, qualcuno che è l'altra faccia della medaglia di Grillo, perché poi alla fin fine il consenso lo portano tutti alla stessa fonte, lo portano tutti dalla stessa parte. E hanno trovato questo qua a Firenze. Che la prima cosa che mi ha detto quando sono entrato in ufficio da lui è, Salvini, io e lei sull'euro la pensiamo in maniera esattamente opposta. Io ho tirato un sospiro di sollievo perché ho detto, mi sarei preoccupato se avesse detto il contrario. Politicamente viviamo un momento preoccupante, e qua la smetto col sorriso, perché sono veramente fortemente preoccupato. C'è puzza di regime. Cerco di non usare le parole avanvera, ma c'è puzza di regime. C'è puzza di fregatura. Vogliono finire la partita. Ne hanno scelto uno simpatico che parla in Toscano, perché devono finire il compito. Che ministro dell'economia hanno scelto. Il peggio del peggio del peggio. È stato scelto con l'avallo di Berlino, di Bruxelles. Costui ha lavorato per la Banca Mondiale, per il Fondo Monetario Internazionale, per la Commissione Europea. Per il Fondo Monetario Internazionale si occupava della Grecia. Toccatevi, perché... Però è lì, e le parole che arriveranno nei prossimi giorni. Ci scommetto due euro, anzi duemila lire. Privatizzazioni e liberalizzazioni. Fanno rima con fregatura. Sono pronti a svendere gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste in Italia. Eni, Enel, Finmeccanica, tutto quello che è ancora un prezzo, sono pronti a regalarlo. Perché è arrivato Renzi? Perché deve finire con i saldi. E io sono preoccupato. Sono preoccupato perché ci siamo noi a dire certe cose. 1633. Che il sole sia centro del mondo e non si muova è preposizione assurda, falsa ed eretica, contraria alle sacre scritture. Che la terra non sia al centro del mondo e che addirittura si muova è preposizione assurda e falsa. Per questo ti condanniamo al carcere e per penitenza, per tre anni, tu una volta alla settimana dovrai recitare sette salmi penitenziali. Chi era il pericoloso sovversivo che osava sostenere che il sole era fermo ed era la terra che girava? Era Galileo Galilei che infatti il 22 giugno del 1633, disperato, disse Io abiuro, maledico e detesto i miei errori e le mie eresie. Così non mi rompono più le palle. Questo lo aggiungo io. Dopo 180 anni, nel 1822, la Chiesa riconosce che il sole è fermo e la terra gira. Dopo 359 anni dalla condanna dell'eretico Galileo, nel 1992, la Chiesa riabilita Galilei. Ora costui, osservando, con il suo dialogo sui massimi sistemi del mondo, non aveva gli strumenti di misurazione nostra, osservando nel 1633, disse Ma secondo me, anche se tutti dicono il contrario, e guai a chi osa dire il contrario, a occhio, guardando le maree, guardando intorno, Il sole è fermo e la terra gli gira intorno. No. Se ci fosse stato porta a porta, e fosse andato a porta a porta, col plastico, gliel'avrebbero smontato perché non è possibile. È una preposizione assurda, falsa ed eretica. Devi abbiurare, devi recitare per tre anni i sette salmi penitenziali, quindi, che qua dentro per i prossimi tre anni deve dire l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, almeno sette volte al giorno, perché altrimenti finivi sul rogo. Dopo 359 anni hanno riconosciuto che il sole è fermo e la terra gira. L'euro è una cagata. L'euro è uno strumento di morte. L'euro ha massacrato, l'euro ha annientato decenni di sacrifici dei nostri padri e dei nostri genitori. L'euro, soprattutto, l'euro, soprattutto, il furto più grave è il furto di speranza, è il furto di futuro, è il furto di dignità. La cosa più grave è togliere la speranza ai ragazzi. È gravissimo chiudere la Invernizzi, la Electrolux, i 159 imprenditori suicidi, ce li hanno sulla coscienza anche quei balordi lì che ci hanno infilato in un tunnel da cui, però, è questa la consapevolezza che ciascuno di voi deve avere. Si può uscire. Non c'è niente di irreversibile. Io spero che ci metteremo meno anni rispetto ai 359 di Galileo, rispetto ad essere riabilitati, anche qua, anche perché secondo me abbiamo, non so se abbiamo 359 giorni per salvare quello che rimane della nostra economia e del nostro futuro. Però quello che mi preoccupa, i temi economici li lascio a Claudio Borghi, che ringrazio perché si è messo a disposizione anima e corpo di un movimento di una comunità di sognatori e di matti come la Lega Nord. Non so chi gliel'ha fatto fare, però lo ringrazio perché perché non gliel'ha ordinato il dottore e il libricino l'ha fatto gratis. Quindi qua, siccome ti chiedono fattura, noi siamo contro le fatture a prescindere, però ti chiedono fattura per qualunque cosa accade al mondo. Il libricino l'ha fatto in gratis e se non l'avesse fatto gratis ci saremmo trovati con dei contanti in nero all'autogrill di Fiorenzuola pur di dare un dispiacere allo Stato italiano, evidentemente. Però, detto questo, siamo soli, siamo soli contro tutti, siamo soli contro l'informazione, neanche la propaganda fascista riusciva a far propinare e a far digerire agli italiani quello che stanno provando a fare questi. Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Rai, Mediaset, sono tutti dalla stessa europarte, sono tutti eurotruffatori alla stessa maniera. Non abbiamo niente da aspettarci da queste persone. Dobbiamo essere noi il megafono di noi stessi, però abbiamo un vantaggio rispetto a tutte queste persone che hanno soldi, hanno televisioni, hanno giornali, hanno lo spread, hanno le agenzie. Ieri mi chiama un giornalista, ma lo spread, ma pensate come, pensate veramente, lo spread ha accettato positivamente il governo Renzi. chi è lo spread? Dove abita? Che lavoro fa lo spread? Ma si inventano... E adesso, se usciamo di qua, io sono convinto che se andiamo in corso Vittorio Emanuele, fra la gente che fa shopping, che voi avete il dovere però di fermare uno per uno, come i testimoni, dobbiamo essere testimoni di Geova, uno per uno, fermarli, col libricino, noi glielo diamo gratis, abbiamo questo vantaggio, dobbiamo far pensare la gente, perché la gente che dice fuori, veramente dopo il lavaggio del cervello, pensa che il suo problema sia lo spread, siano le agenzie di rating, sia lo 0-1, ma un premier che dice, è vero, per la stabilità fiscale stiamo massacrando il mercato interno. Tradotto, stiamo distruggendo negozi, commercio, artigianato, turismo, per la stabilità. Qualcuno mangia pane e stabilità stasera. È un progetto, il deserto economico, ma soprattutto quello che mi preoccupa è il deserto delle idee. Dietro la moneta unica c'è il pensiero unico, c'è il vestito unico, c'è la musica unica, i libri ti dico io che libri leggere, i programmi televisivi ti dico io che programmi televisivi guardare. Le scarpe, la scuola, la famiglia, basta con sta mamma e con sto papà, che palle, non è moderno, basta, l'Europa ha un altro modello di famiglia, il genitore è uno, due, e poi se c'è anche il tre, il quattro, il cinque, il sei è più bello, e se qualcuno osa fare delle pubblicità tipo mulino bianco, boom, Barilla, ma come ti permetti di fare la pubblicità con la mamma e il papà felici, ci vogliono due mamme incazzate, è questo, la moneta unica serve a imporre un pensiero unico, serve a fare un'enorme marmellata, noi non siamo marmellata, noi non siamo marmellata, e per assurdo è la Lega Nord, per assurdo è la Lega Nord per l'indipendenza della Padagna, che proverà a salvare tutte le diversità che ci sono in Italia, tutte le identità, tutte le lingue, tutte le culture, tutti i cibi, dobbiamo difendere con le unghie e con i denti le diversità, senza essere superiori o inferiore a nessuno, dalla Valcamonica al Salento, vogliono omogeneizzarci con lo stesso gusto, e con i denti